Goal! Goal! E allora ci siamo tutti insieme! Tutti insieme! Quante volte siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Abbracciamosi forte e vogliamoci tanto bene! Vogliamoci tanto bene! Perché abbiamo vinto! Abbiamo vinto tutti stasera! Abbiamo vinto tutti! Abbiamo vinto tutti! E' finita ragazzi! E' finita! Come tutte le cose che finiscono Lascia un velo di tristezza Un velo di malinconia Non ho mai capito se si dice malinconia o melanconia Perché si dice Sono un tipo malinconico Sono un tipo melanconico Comunque Per velo di tristezza Naturalmente mi riferisco al fatto che questa puntata Per usare un effemismo Ha fatto cagare un po' a tutti La maggior parte della gente Non è stata effettivamente Così soddisfatta del finale Di questa meravigliosa serie tv Certo verrebbe da chiedersi Ma effettivamente che cosa si aspettavano queste persone Da quest'ultima puntata Da quest'ultima ora e venti Di narrazione Io non credo ci si potesse aspettare Una cosa molto diversa Da quello che abbiamo visto Certo il chi È sempre la domanda fondamentale Della maggior parte dei Dei fan Del trono di spade Il chi È finito Effettivamente sul trono di spade O comunque è diventatore Era una domanda Che molti si stavano ponendo Molto tempo I candidati erano parecchi Anche se alla fine giravano Sempre i soliti nomi E credo che questa sia stata La più grande delusione Del pubblico Del pubblico di massa Anzi no Non credo del pubblico di massa Io credo che il pubblico di massa In realtà Non fosse così interessato al chi Io credo che La delusione Riguarda solamente Un piccolo gruppo In realtà Diciamo che Io non credo che questa serie Sia arrivata Ai numeri di pubblico A cui è arrivata Con così tanti scontenti Io non ne sono convinto Il trono di spade Ha fatto dei numeri Di ascolto Di effettiva visione Perché comunque Oltre a chi ha visto Le puntate Oltre a chi ha comprato I cofanetti C'è anche tutta quanta Quella che è la Diciamo la pirateria Della serie E quelli sono tantissimi Anche quelli E Io non credo Sinceramente Che quelli a cui Ha fatto cagare Questa puntata Il finale Siano effettivamente Così tanti Diciamo che Quelli che cagano Il cazzo Su internet Sono tanti E a tutti quanti Peno male Ha fatto cagare La puntata Però 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 Come ho detto Come poteva Andare altrimenti Voglio dire Rimaneva Rimaneva L'ultimo nemico Da sconfiggere Ormai L'avevamo capito Già da un paio Di puntate Questa parte Che sarebbe stato Daenerys Avevamo capito Che bene o male Daenerys Non sarebbe arrivata Fino alla fine Restava appunto La domanda Chi L'avrebbe uccisa Poi Effettivamente C'è stata Tutta la seconda Parte della puntata Che Effettivamente Come Molti hanno detto Ma Non si poteva pensare Altro Ricordava molto Il finale Il signore degli anelli Ora Io non sono Un fan Sfegatato Il signore degli anelli Li ho visti Mi piacciono molto È La saga fantasy Più importante Della storia del cinema Ma devo ammettere Che quella mezz'ora Di finale Mi ha sbomballato Il cazzo In una maniera Incredibile Perché Perché Fondamentalmente Di vedere Come andavano A finire le cose Per i protagonisti Non me ne fregava niente Interessante Commovente Sì Però Anche No Certo Però Quella Quello Era un finale Che ci stava Per una serie Così lunga Così epica Che aveva Quel suo Diciamo così Respiro di narrazione Quei suoi tempi Di narrazione E anche Nel trono di spada Effettivamente Ci poteva anche stare Quei 40 minuti Diciamo Di finale Dove si Dove si decideva Chi era il re E come andavano A finire i vari personaggi Ci poteva anche stare A me Ha sbomballato il cazzo Non mi finiva Veramente più Però Credo che Ci voleva Ci voleva E come ho detto Io penso che la gente Sia stata più delusa Dal chi Che dal come Certo Alcuni Molti Si sono lamentati Anche di come Alcune cose Sono state fatte vedere Di come Alcune scene Sono state fatte Sono state gestite I tempi Di come Di come alcune cose Accadono Però Ragazzi Era l'ultima puntata Bisognava chiudere Certo Se uno mi chiede Qual è stata La parte più interessante La puntata È chiaro che io ti dico I primi 40 minuti Perché dei secondi Ovviamente A me Non me ne fregava Più di tanto I primi 40 minuti Sono stati Molto buoni Per un 80% Credo Forse anche qualcosa Di meno Ma Come ho detto All'ultima puntata Di una serie Che dura da 8 anni Indipendentemente Dall'effettivo minutaggio Gli effettivi tempi Della serie All'ultima puntata Cosa vuoi che succeda È tutto in discesa Si sa quello che Deve succedere E succederà E si chiuderà In qualche modo Cosa vi posso dire Di questa puntata Io veramente Sono un po' in difficoltà Questa volta Per le altre puntate Avevo qualcosa da dire Perché ci ragionavo Un po' su C'era comunque Sempre il dubbio Cosa succederà Nella prossima puntata Adesso arrivate alla fine Sinceramente Non Non c'è molto da dire Un finale È una chiusa È come È come È come fare la recensione Degli ultimi tre minuti Di un film A livello di percentuale A livello di percentuale Penso che siamo lì Non credo abbia tanto senso Certo Come molti hanno detto Sti cazzo di eserciti Di Daenerys Si moltiplicano Alla fine di ogni battaglia È una roba incredibile Si riprodurranno Per osmosi Li stamperanno Con una stampante 3D Io non lo so Ma i Dothraki Sono Sono esplosi Non lo so Non lo so Sembravano gli ormoni Di un quindicenne Era una roba incredibile Sembravano tre Nella scorsa puntata Adesso sono Gli immacolati Stessa roba Gli uomini del nord Che non si capisce Dove cazzo sono All'inizio della puntata Alla fine della puntata Diventano decine di migliaia Di uomini del nord Che aspettano qui fuori Che aspettano la sorta Vabbè Ma tanto queste cose Non le abbiamo mai capite Mai Ma proprio mai In nessun'altra puntata Al trono di spade Certo Qualcuno mi può dire Mi può dire John Snow John Snow Ragazzi È stato un cartonato Tutta la stagione Ed è stato un cartonato Anche adesso Nonostante avesse Per le mani Fisicamente per le mani La chiusura della serie Ovvero l'uccisione di Daenerys 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 Ha fatto il suo personaggio Ha fatto quello che Ci aveva In un certo senso Prenunciato In una puntata precedente Ha dichiarato Che avrebbe esportato La democrazia In tutto il mondo Ed è quello che ha fatto La scena è stata meravigliosa Lei Nell'alto della scalinata Tutti gli eserciti Tutti i cloni Dell'esercito Lì sotto Che ascoltavano Che erano entusiasti E vai Ancora guerra Vaffanculo È stata una scena Veramente D'impatto La forza Delle parole Di Daenerys La forza Del suo discorso Si sentiva Era palpabile E Era terrificante Come è giusto Che sia Sì È un po' deludente Il fatto che Daenerys Sia stata quella Che ha avuto I dialoghi Più importanti Ed erano Praticamente Due monologhi Il suo discorso E il dialogo Con Jon Snow Che era Un monologo Di lei Praticamente Perché Jon Snow Non è che abbia avuto Ste risposte Questo Ecco Questo contraddittorio Così Così Interessante Naturalmente La scena clou La scena Che secondo me È stata più bella Tanto per cambiare Riguarda Il drago Riguarda L'ultimo drago Che Che all'inizio È guardia Della sala Del trono Quella scena Finale È stata Meravigliosa Con il drago Che urla di dolore È stata un po' sterile Diciamo così La morte di Daenerys In sé È stato molto più interessante Vedere la reazione Appunto del drago Mi sarei aspettato Una reazione Diciamo più Più animalesca Non lo so Io avevo in mente Due Due possibilità Una possibilità poetica E una possibilità Violenta Diciamo così Di come il drago Averbe reagito Alla morte di Daenerys La possibilità poetica Era che il drago Semplicemente Si accorgeva Che Daenerys Era morta Si accucciava lì Proprio A cane Proprio E si lasciava morire Lì Di dolore Di fame Di quello che volete E sarebbe stato Molto poetico Sarebbe stato Anche molto toccante Però sarebbe stato Un finale di merda Perché quando è troppo toccante Come in questo caso Fa cagare Poi c'era la versione Appunto Violenta Dove il drago Si inalberava Leggermente E distruggeva Tutto quello che aveva Intorno Diventava Il vero ultimo Pericolo Da sconfiggere Dopo Daenerys E Probabilmente Il fatto di dover Uccidere il drago Per gli eserciti Per il quale Il drago è stato Utilissimo Probabilmente Sarebbe stato Molto più D'impatto La scena dove Il drago Scioglie il trono Di spade Io l'ho trovata Una scena Orrenda Inutilmente Eccessivamente simbolica E eccessivamente Retorica Per me A me ha fatto Proprio cagare Quella cosa lì L'ho trovata Veramente stupida Ci può anche stare Esteticamente No Esteticamente Non mi ha fatto Cagare Anche esteticamente Devo dire Non aveva Secondo me Molto Molto senso Diciamo I fini della storia Non mi è piaciuto Grazie Come non mi è piaciuto In realtà La scoperta Dei cadaveri Di Jamie E di Cersei Da parte di Tyrion All'idea Il fatto che Nella puntata precedente Sembrava fosse successo Il disastro Poi arriva adesso E sembra sia cascata Tre sassi In croce Che fai Vabbè Ok Sì Come se si volesse Tanto a capire Che entrambi erano morti Comunque Diciamo che Quella parte lì Non esattamente Del tutto Soddisfatto Chiaramente Da parte con Daenerys Come ho detto E del drago Sono state quelle Secondo me Più interessanti Peccato Che arrivino A metà Della puntata E c'è ancora Un'altra metà Di puntata Da subire E giustamente Che cosa può succedere Dopo? Naturalmente Bisogna decidere Chi va sul trono di spade Perché Perché noi Effettivamente Avremmo Un legittimo Erede Da mettere Sul trono Però Però c'è un problema È tenuto Prigioniero Dagli immacolati Si arriva Naturalmente Al concilio Finale Per decidere Per decidere Il re E Arriva Arriva il momento Chiave Arriva il momento In cui Tyrion Comincia Ad aprire bocca Arriva il momento In cui Verme Grigio Gli dice Di stare zitto E giustamente Tyrion Continua a parlare E decide Tutto lui Io credo che Potremmo perderci Veramente Dei giorni A disquisire Sul Sul discorso finale Di Tyrion Sulle conseguenze Che porta E sul nuovo regime Che viene instaurato Nuovo Fino a un certo punto E penso che sarebbe Un interessante Argomento Di discussione Io cercherò Di riassumervelo Per quella Che è la mia idea Cerchiamo di capire Da come è finita Qual era l'intenzione Degli sceneggiatori Allora Io non so Non credo Neanche voi Non credo Che nessuno di noi Sappia Effettivamente Se Questo finale Ha in qualche modo A che fare Con l'idea Originale Di Martin Non lo so E io Non credo Lo sapremmo mai Forse quando usciranno I libri Ma io non li leggerò Perché mi hanno già Abbastanza rotto il cazzo Insomma Io non credo Che sapremmo mai Se Gli sceneggiatori Sono andati dietro All'idea di Martin Sono andati vicini A quello che pensava lui Non lo so Io mi limito a guardare Quello che ci è stato Fatto vedere Allora La serie Era partita ovviamente Con Come con i libri Come dimostrazione Di quello che Il potere Dell'effetto Che è il potere Su chi lo esercita E su chi lo subisce Che era La parte Che era la parte Più interessante Al Trono di Spade Prima che diventasse Una 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 sitcom Mescolata Con una Con una fiction Di Canale 5 Con Con delle puntate Vuote come la merda E con delle puntate Veramente inutili E con delle Stupidaggini Che ti facciamo Veramente girare Di palla Detto questo Se l'idea Degli sceneggiatori Fosse stata Quella di Mettere in scena La fine La distruzione Di un certo Regime Di autorità Di un certo Tipo di governo In favore Di un qualcosa Di più giusto Di un qualcosa Di diverso Di un qualcosa Di più Adatto per il popolo Di un qualcosa Che sia più importante Appunto Per chi viene Governato Non so Non so se era Questa l'intenzione Allora Vediamo cosa è successo Allora Abbiamo avuto Un momento Nel quale Sam Aveva proposto Fondamentalmente Una specie di monarchia Con Questa specie Di suffragio Appunto Di questa votazione Del popolo Per eleggere il re Una specie quindi Di monarchia Di repubblica monarchica Possiamo dire Più o meno Spariamo 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 parole A cazzo di cane Che tanto La repubblica monarchia Da una parte Dall'altra però Quello che effettivamente Succede È che viene eletto Un nuovo re Ma Il sistema di governo Rimane quello Ovvero C'è sempre il concilio ristretto Che prende le effettive decisioni C'è un re Che ha Sta specie di Boh C'è una specie Di diritto Di veto C'è sta specie Di Di presenza Simbolica Nella figura di Bran Ovviamente fa un po' Ridere Un po' Perché Sì ok È molto interessante Il discorso che fa Tyrion Nel fatto che Bran È la memoria Che sa tutto quello Che è successo Che sa tutto quello Che succede Che sa tutto quello Che succederà Naturalmente Bisogna metterci un momento Ridico In tutto ciò Dove Dove Bran arriva E chiede Dov'è Drogon Cazzo Bran Se non lo sai tu Puttana Eva Chi cazzo vuoi Che lo sappia E vabbè Lui è quello Che sa tutto Però vabbè Il che dà ancora più fastidio Perché se lui effettivamente sapeva Che andava a finire così Diciamo che nel momento Che nel momento in cui lui diventava il corpo con tre occhi Sapeva già tutto Sapeva già come sarebbe andata a finire Ecco io credo che questa sia una cosa Che avrebbe dovuto dare molto fastidio Il fatto che Sembra che Ci sia una specie di Di destino Di una cosa di preordinata Una cosa interessante Del trono di spada Era che comunque Questa cosa Che ci fossero gli dèi Che decidevano Ricordate no Il dio della luce Il night king Che era il dio Della notte Della morte In un certo senso Il ghiaccio di fuoco appunto Era una cosa Che comunque c'era Ma ti lasciava sempre col dubbio Perché comunque Siamo in un mondo fantasy Quindi la gente Che viene riportata in vita Dalle streghe Gli zombie Le spade fiammeggianti Le cose Era una cosa Che ci potevano stare Indipendentemente La faccia che ci fossero Degli dèi o no Questa cosa Che potrebbe essere Stato tutto preordinato Quindi deciso Dagli dèi Secondo me Toglie molto Toglie molto A quella che abbiamo visto Perché sembra quasi Che Le persone Debbano sottostare E debbano viaggiare Devono vivere la loro vita In funzione di come Di come gira gli dèi Sembra a caso Che sia questo il messaggio Del trono di spade In quella cosa lì Quindi Io quella la trovo Si molto riduttiva La trovo veramente Molto Come posso dire È una cosa Che toglie Che toglie valore Secondo me Alla serie E all'intera storia E all'intera storia Il fatto Il fatto di far credere Che fosse stato Tutto preordinato All'inizio Che si sapeva già In un certo senso Anche semplicemente Il fatto che Diciamo che Dopo la morte Night King Tutto quanto Era già deciso Secondo me Questo toglie parecchio Toglie parecchio A livello di contenuto A livello di messaggio Poi come ho detto Fondamentalmente Non è che cambia Loro dicono Spezziamo la ruota Cambiamo le cose Sì ma alla fine Non è che si hanno cambiato Così tanto Perché è vero Sì ci hai messo Bran come re Bran non può avere figli Sì ma Quello che verrà dopo Bran Forse lui potrà Avere dei figli Magari ci mettete una donna Ma lei probabilmente Potrà avere dei figli Cosa Cosa impedirà Al successore di Bran Di voler riportare Le cose come erano Il sistema non è cambiato Il sistema Ha semplicemente cambiato Chi c'è Sul trono Per la prima volta Abbiamo un re Che si porta il trono da solo Ma All'ilà di questo Non mi sembra che ci sia stato Questo gran cambiamento Se Se l'idea fosse stata quella Di far vedere Che comunque Anche quando cambiano le cose Le cose non cambiano Citazione famosa Bisogna che tutto cambi Perché tutto rimanga uguale Se questa era l'idea Perché non Accennarmelo In un dialogo In un dialogo finale In un dialogo nel quale Ci si accorge Che in realtà Non è cambiato niente In un dialogo Che faccia capire Che La gente muore Per un ideale Che può Essere Disilluso Che può Che può anche Non essere realizzato Poteva essere interessante Anche così In che altro modo In che altro tipo di messaggio Potrebbero aver voluto dare I sceneggiatori Con questo finale Il fatto che appunto La memoria Le storie La storia di Brando Spezzato appunto Che al di là Del fatto che non ho capito Chi cazzo è che la conosce A Westeros La storia di Brando Spezzato A parte quelli del nord Vabbè Non è chiaro Come non è chiaro Come tanti giustamente Hanno fatto notare Il fatto che il nord Si è preso l'indipendenza Così Vabbè che avrebbe da dire Scusa ciccio Ma il re È mio fratello Sai com'è Io l'indipendenza Me la piglio E come se non me la piglio oggi Me la piglio tra un anno Tra due anni Ma il re È mio fratello ciccio Tata che al cazzo Giustamente Tanti si sono chiesti Ma perché allora Gli altri regni Di Westeros Non hanno chiesto la stessa cosa Ecco Quello Avrebbe spezzato La ruota parecchio Un ritorno A un sistema Di regni più piccoli Più autonomi Forse Magari uniti Da scambi commerciali Da altre cose Dai bordelli Probabilmente Quello sarebbe stato Il motivo di unione Più importante Sarebbe stato in questo caso Anche un forte messaggio Di critica Ad esempio Alla situazione Che stiamo vivendo oggi L'Europa La Gran Bretagna Che se ne vuole L'Inghilterra Scusate Il Regno Unito Come cazzo Chi è che vuole uscire Dall'Europa Vabbè Quelli là che vuole uscire Dall'Europa Allora L'Inghilterra Che se ne vuole andare Dall'Europa Dicevo E quindi Che cosa impedisce Agli altri stati Di andarsene A loro volta Un motivo Per riflettere Appunto Su questa cosa Messa come l'hanno messa loro Sinceramente Mi sembra una cosa Che semplicemente Succede E finisce lì Non l'ho trovata Così d'impatto Non l'ho trovata Una scusa Diciamo per rifletterci Troppo sopra Arriviamo quindi Alla fine dei personaggi Alla fine dei personaggi Con quella Mezz'oretta 40 minuti Dove si vede Alla fine Che fine Fanno i personaggi Sì vabbè Ok Brienne Fa il cavaliere Gli Immacolati Con tutti i loro cloni Se ne vanno Nell'isola di Nat Chissà se ci staranno tutti I Dothraki Non se li ha inculati nessuno Chissà dove sono Aria Smette di spingere il re E decide di salpare Verso ovest Per scoprire Che cosa c'è Più ovest Di Westeros Io La butto lì Ma probabilmente C'è il Far Westeros Non l'ho ben capita Sinceramente Questa scelta di aria Comunque Vabbè Aria va a esplorare Sansa diventa La regina del nord Con tanto di proclamazione Gli uomini del nord Non hanno ancora ben capito Che quella Proclamazione Del regnante Porta una sfiga atomica E continuano In perterriti A farla Poi c'è naturalmente Il destino di Jon Snow È quello che Probabilmente ha deluso Più di tutti Più di tutto Scusate Non ha molto senso Sono d'accordo Anch'io Il fatto che Gli immacolati Vogliono ucciderlo Perché ha ucciso Daenerys Però gli uomini del nord Vogliono salvarlo Perché Lui è È stato naturalmente Il bellissimo momento Dove lui Attraversa la barriera Va verso il nord Vediamo Quel ciuffetto d'erba Che nasce Che nasce In mezzo alla neve Che ci fa capire Che probabilmente Sta cambiando Veramente tutto Anche appunto Nel nord Che In un certo senso Dopo la morte Del re della notte O comunque Il vero cambiamento Che sta arrivando Sta modificando Tutto quanto Anche appunto Il vero nord Non si aveva Capito se sto inverno È arrivato C'è stato C'è È già finito Non si è capito bene Quanto tempo si è passato Dall'ultima battaglia Al finale Comunque vabbè Non facciamoci troppe domande Su questo Su queste cose Non crediamoci Se il popolo È contento Di come sono state Restaurate le cose Perché tanto Del popolo Non ce n'è mai fregato Un caso Dovevamo far vedere Giusto quegli due Tre cadaveri carbonizzati Quando servivano E basta Il popolo Che si inculi Fondamentalmente Anche perché La risata Del concilio Che decide Chi era Mi sembra Che dia Un'immagine Ben chiara Di quanto Fregasse Ai nobili Del popolo Anzi Quella è stata Probabilmente La cosa Più interessante Di questa zanzara Che ho appena Ucciso Dicevo Mi è sembrata La cosa Più interessante Di quel concilio Il fatto che appunto Venga messo in scena Quanto dei regnanti Non gliene freghi Un cazzo del popolo E di nuovo Ritorniamo al stesso discorso Se l'idea era quella Di spezzare la ruota E di dare così Un messaggio Di speranza In un certo senso Del fatto che le cose Possono cambiare Possono migliorare Per chi Per chi regnava A questo punto Per far ottenere qualcosa A chi regnava Perché del popolo Non gliene freghi Niente nessuno Non ce l'ha mai fatto vedere Cosa ne sappiamo noi Che il popolo è contento Del fatto di avere Un re Che ha bisogno Di qualcuno Che gli pulisca il culo Come facciamo a saperlo Non lo sapremo mai Quindi Noi non sapremo Se questa cosa È andata a buon fine Se è andata bene Come in un certo senso Non possiamo sapere Se cosa sarebbero andate bene Se Daenerys Avesse deciso Di uccidere Tutti quanti I padroni Del mondo I padroni Gli oppressori I tirani I ricchi Quello che vi pare Non possiamo sapere Se un suo regno Gestito unicamente da lei Sarebbe andato a buon fine Chiaramente non poteva essere così Perché comunque Il modo in cui Volevo ottenerlo Era qualcosa di criminale Era qualcosa di folle Un qualcosa di non accettabile E però Come ho detto Noi non siamo sicuri Che questa cosa Abbia portato effettivamente Di benefici Un qualcosa di buono O se semplicemente Le cose sono rimaste Come sono E come ho detto Se l'idea Era quella Di far vedere Che le cose Possono cambiare Possono succedere Tantissime cose Nell'arco di anni Può succedere guerre La popolazione Può essere decimata Possono esserci Stermini Inenarrabili E alla fine Ritorno a tutto Come era prima Se l'idea Era questa Ok Ci sto Ma fammelo vedere Fammelo capire Che la tua idea Era questa Buttata così Sembra che Tu voglia dare Un colpo al cerchio Un colpo alla botte Sembra che tu vuoi dire qualcosa Ma non la vuoi dire Sembra che vuoi far vedere qualcosa Ma non la vuoi Non vuoi Non vuoi schierarti In realtà E mi dà un po' fastidio Sinceramente Il fatto di Lasciarti in questo limbo Questa è la cosa Che mi ha dato veramente Tanto fastidio Di questa puntata Il fatto che comunque Non Gli sceneggiatori Non si sono schierati Da una parte o dall'altra Ci hanno detto Due o tre cosine Carine Sì Il fatto della memoria Del popolo Sì Il fatto Sì Eleggiamo il re Ma lo eleggiamo Tra di noi Ce lo teniamo sempre Tra di noi il re Il concilio Che rimane è quello Però Da questa parte Abbiamo un lieto fine Da questa parte Abbiamo un momento commovente Da questa parte Vediamo Che già Ho una carezza del cane Vediamo che Tyrion Si è salvato E tornato sul posto di potere Vediamo Bron che fa le sue battagline Che è simpaticissimo Vediamo Vediamo Bron che vuole ricostruire I bordelli Che è simpaticissimo Poi vediamo E poi vediamo Bron che gestisce i soldi Che è simpaticissimo Poi vediamo E poi vediamo Poi vediamo Bron che sposta la sedia Che è simpaticissimo E poi vediamo E poi vediamo Bron che è finalmente Diventato un lord Che è simpaticissimo E basta Fondamentalmente La scena è tutta lì Come ho detto Ci si può anche divertire Può anche essere emozionante Può essere emozionante Il fatto che Brienne Concluda la storia di Jamie Lannister Sul libro Ci dessero un paio di secondi in più Per riuscire a leggere Tutte le righe Che sarebbe stato fantastico No Abbiamo poco tempo Tutto ragazzi Quello che abbiamo visto In questa puntata Può essere bello Tutto E può Tutto quanto Può andare bene Avrei preferito Però Una chiusura Un po' più Netta Avrei preferito Che gli sceneggiatori Arrivassero A un punto A un qualcosa Di forte da dire Che c'è stato In un certo senso Perché comunque L'idea di andare contro Daenerys E arrivare ad ucciderla Per Tyrion Per Varys Per Jon Era comunque Una cosa Forte Era una cosa Veramente difficile Da fare Perché Daenerys faceva paura Erano tutti quanti succubi Di lei alla fine Tyrion stesso Tyrion soprattutto Tyrion era molto spaventato Da lei Quindi Anche solamente L'idea di Comunque andare contro Al Al vero tiranno A questo punto Alla persona Che veramente Fa paura E andarci contro Nonostante Sia la persona Che è servito Fino adesso Nonostante fosse La persona In cui credevi Come Varys Come Tyrion Tyrion ci credeva Molto In Daenerys Andare contro La persona Che ami Andare contro La persona Che ami E arrivare ad ucciderla Quello È stato Sicuramente Molto D'impatto È stato Molto Bello È stato Molto Interessante Ma come ho detto Seconda Zanzara Morta Sì che fa Un freddo Cane E come ho detto Però Il finale Finale L'ho trovato Un pochino Come posso dire Tanto pieno di roba Ma in realtà Molto vuoto Ma in realtà Molto Piatto Molto sciatto Molto Come ho detto Come ho detto Diamo un colpo di qua Diamo un colpo di là E poi E poi tagliamo Però Io credo Che sia giusto Anche Concludere Questa recensione Dove Dando a Cesare Qualche Di Cesare Naturalmente Perché noi Possiamo stare qui A Parlare A discutere A ragionare Su Questa cosa È stata fatta bene Questa cosa È stata fatta male Questa cosa Mi ha dato fastidio Questa cosa Era bella Questa cosa Era interessante Questa cosa Era meno interessante Questa cosa Mi ha dato da riflettere Questa cosa Mi ha dato poco da riflettere Questa puntata È stata vuota Questa puntata Ci hanno preso per il culo Questa puntata Sì Possiamo dire tantissime cose Ragazzi Ma c'è Una cosa Che è molto più importante E che sovrasta Purtroppo O per fortuna Non credo lo sapremo mai Tutte quelle che possono essere Le nostre opinioni Le nostre immostanze Ovvero I risultati Di questa serie I risultati di questa serie Sono stati molto buoni Per chi questa serie L'ha fatta L'ha finanziata L'ha prodotta L'ha interpretata L'ha diretta Questa serie È stata la fortuna Per tantissima gente E io posso anche essere contento Posso essere contento Per gli attori Basti pensare Che comunque Peter Dinklage E Lena Headley All'inizio Prima di cominciare Appunto Col trono di spade Erano Erano quasi Praticamente Poveri Lena Headley Usciva da un Da un divorzio E A detta di Lestis Lei dormiva in macchina Quando Quando andò A fare il provino Appunto Per il Per il loro Sessi Da Lannister Tiriano più o meno Uguale Non navigava Certo da loro Diciamo che La fortuna Che gli ha portato La serie La possibilità Di lavorare In altri progetti E di fare qualcosa Qualcos'altro Sicuramente Quello mi può fare Solo che piacere Per loro Per i registi Che hanno trovato Modo Di esprimersi Ma per molti di loro Avrei preferito Che uscissero Di film Loro Più che dirigono Una puntata Del trono di spalla Sinceramente Però comunque Hanno trovato A lavorare E Come Comunque È stato dato Lavoro A tutti quelli Che hanno partecipato Che sono state Tantissime persone Vi basti pensare Che Per la sola puntata Della lunga notte Della battaglia Ve la ricordate No Quella puntata Dove non vedevate Un cazzo Ecco Solo per quella battaglia Ci sono voluti Due mesi di riprese E tanto C'è da dire Che Questa serie Ha cominciato Con i primissimi episodi Con una media Di 2 3 milioni Di spettatori A puntata L'ultima puntata Dentro Novi Spade Ha raggiunto Quasi 20 milioni Di spettatori È stata una serie Che È costata Qualcosa Tipo Mi sembra Di aver letto Sui 600 650 milioni In totale Più o meno Quanto è costata L'intera trilogia Dello Hobbit Per dire Che In realtà Non è neanche così tanto Comunque Per una serie televisiva Per quanta roba Effettivamente abbiamo visto Ci sono Gli oltre 150 premi Che questa serie Ha vinto La serie Più premiata Di sempre Questo ragazzi Sono le cose Che contano Per chi le serie Le fa Le scrive Le produce Per chi Caccia i soldi E per chi Fa fare queste cose Stessa roba Vale per i film Questo è quello Che conta E le opinioni Di quello Che comunque A me è sembrato Comunque un gruppo Ristretto Numeroso Però ristretto Di persone Che a cui Questa puntata Ha fatto cagare Che in realtà Ha fatto cagare Quasi tutta Questa stagione Che sta già cominciando A rivalutare Anche la settima stagione E io ho già Cominciato a vedere Di commenti Che cominciano a spalare Merda Anche sulla sesta Che è stata Una di quelle Più osannate Quando uscì Io me lo ricordo Molto bene Me lo ricordo Molto bene Com'era Quando c'era La sesta stagione Del trono di spade E mi ricordo I commenti entusiasti Della settima stagione Me li ricordo benissimo E adesso Si sta cominciando Una rivalutazione All'indietro E verso il basso Di tutta quanta Delle ultime due stagioni Adesso si stanno andando Anche alla sesta E piano piano Si andrà sempre più indietro Secondo me Però Come ho detto Ai signori della HBO Agli showrunner Quei 20 milioni Di spettatori Che hanno fatto Con l'ultima puntata Sono tanti E sono un numero Importante Sono i numeri Di un successo Poi si Se poi uno va A guardare le critiche In quei siti A cui a voi Piacciono tanto Quei siti Con i numeretti Che dicono Ah questo film Ha preso 89 Questo film Ha preso 91,5 E un'antichia Si Andrete Andrete a vedere E vedrete Che le ultime tre stagioni Del trono di spade Sono quelle che hanno Comunque i voti più bassi Più bassi Anche della prima stagione Quindi Si E probabilmente Anche E questa stagione Tra l'altro È quella che ha il voto Più basso in assoluto A livello numerico Su questi famosi siti Che a voi piacciono tanto Metacritic Rotten Tomatoes Che A me sinceramente Non Non interessano Questi valori numerici Che possono essere Della critica Della critica vera Che possono essere Del pubblico A me non interessano Un cazzo Però Chiaramente Sono un riscontro E il riscontro Del pubblico Meno male Dice che comunque Non è piaciuta Come gli altri Ma i numeri Dicono un'altra cosa E purtroppo I numeri Sono quelli Che portano avanti Questo tipo di industria Endgame Ha incassato Non un botto Tre botti Quattro botti E questo Questo è quello Che interessa A chi produce A chi dirige A chi interpreta Hanno ragione Hanno torto Io credo Che ci sarà Un'erede Di questo trono Di spade Un'erede Che probabilmente Ne seguirà Le orme Molto fedelmente Io credo Che ci saranno Molte altre serie Che saranno Come questa Che avranno Gli stessi problemi Di questa Quasi tutte le serie tv Hanno I problemi Che al trono di spade E tante altre Ce l'avranno E tante altre Avranno Gli stessi problemi Ma come ho detto Come già ne avevo detto Per la scorsa puntata Come dico Anche per questa Secondo me Dire che queste puntate Sono state brutte Per questo Il trono di spade La maggior parte Del trono di spade È stata rovinata Queste puntate Secondo me Non è giusto Hanno i loro problemi Queste puntate Certo che ce li hanno E come se ce li hanno Innumerevoli Però Come ho detto I numeri Dicono una cosa Secondo me Non è giusto Criticare tutto Il trono di spade Per queste due puntate Non è giusto Cominciare a fare La rivalutazione All'indietro Avrebbe avuto senso Avuto una critica Interessante All'epoca Avere due o tre persone Che comunque Cercavano di andarci Contro questo trono di spade E cercare di analizzare Un po' più a fondo Quello che vedevamo Invece di lasciarsi Di lasciarsi prendere Dall'entusiasmo di qualsiasi cosa Vedevamo in scena Adesso Fare queste cose Adesso Mi sembra molto 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 Inutile In realtà Tra qualche anno Vedremo A mente fredda Magari dopo Che qualcuno Se la rivista Tutta quanta Io No di sicuro Vedremo se effettivamente Questa serie Innanzitutto Se Vincerà Quello che è Lo scontro Col tempo Vedere se tra qualche anno Ci sembrerà Ancora così valida Come ci è sembrata Mentre la Mentre la vivevamo Vedremo Vedremo se Influencerà altri E vedremo Che cosa ne uscirà Ne sono usciti Già di epigoni Di Serie tv Che andavano dietro Al sistema Fortunatamente Alcune sono andate In una certa direzione E sono andate Più o meno bene Black 6 Ad esempio Sfruttava il sistema Però andava Su una direzione Completamente diversa Il finale Secondo me È molto più Pieno Di Molto più Pregno di contenuti Rispetto al finale Trono di Spade Secondo me Nonostante appunto Il finale Anche di Black 6 Non è che sia perfetto Tutt'altro Era l'unico finale Disponibile Per Black 6 E Era l'unico finale Disponibile Anche per il trono di spade Come sarebbe andato a finire L'abbiamo intuito Già Due o tre puntate fa Tutto restava appunto A capire Chi sarebbe andato sul trono Come sarebbero finiti I vari personaggi Mi aspettavo qualcosa di diverso Sì Forse sì Mi aspettavo Forse qualche morte in più Finire tutto Con quella morticina Così anche Abbastanza leggera Anche quasi pudica Di Daenerys Forse è stato un po' deludente Forse mi aspettavo Qualcosa di più Sì Come ho detto Forse qualche contenuto in più Sulla seconda metà Qualcosa che ci portasse a riflettere Io trovo che Dopo questa puntata Non trovi niente da dire Non trovi quasi niente Di cui parlare con gli altri Trovi solamente delle domande Al quale non puoi cercare Una risposta all'interno Della puntata Ecco Io adoro i film e le serie tv Che ti danno qualcosa Su cui ragionare Ma anche un qualcosa Sul quale aggrapparti Per cercare di ragionare Su quello che ti vuole dire L'autore I sceneggiatori Il regista Quello che è Per un film Per una serie tv Tutto quanto Capire come la pensa Quel regista Come la pensa Quello sceneggiatore In base a quello Che ti fa vedere Farti la tua opinione Io ho trovato Che in tutto ciò L'opinione Dell'autore Non c'è Questo è Secondo me La cosa Del quale Veramente ci si può lamentare Del fatto che Non si capisce Che cosa Volevano dirci Su cosa Volevano andare a sbattere Su questa puntata Questo secondo me È stata La vera La vera delusione Il vero punto Oscuro La vera voragine Che c'è Per il resto Ragazzi Chi Chi finiva sul trono di spade Io non credo Che ci sarebbe stata Una risposta giusta Io non credo Che la banalità Di avere un Jon Snow Sul trono di spade Per chi sa Quale motivo Avrebbe soddisfatto Avrebbe soddisfatto Gli animi Dei fan No Dei fan Forse sì Perché i fan Se lo aspettavano Ma sarebbe stato Secondo me Ugualmente Deludente Se il finale Fosse stato uguale Ma solamente Con Jon Snow Sul trono di spade Quindi cosa dire Ragazzi Cosa dire E' finita E' finita E Quello che posso dire A chi non è piaciuta E non rammaricatevi Nessuna tristezza Nessuna rabbia Io credo Che comunque Ci sia solamente Da essere Contenti di essere Arrivati fino a qui Di aver visto Comunque questa storia Penso sia giusto Vederla Ecco una volta Giocando Un torneo Un torneo Di calcetto E parlando E parlando Di essere arrivati Quella sarà E quella sarà Effettivamente La cosa più importante Che vi aveva lasciato Il trono Di spade Io spero Che questa mia recensione Vi sia piaciuta Io spero Che queste mie recensioni Vi sono state gradite Spero di avervi detto Qualcosa di interessante Ne dubito Ma lo spero Comunque Sono triste Perché comunque C'era della gente Che inspiegabilmente Aspetta Questi miei video Ogni settimana E sono un po' triste Perché non ne farò più Perché di serie tv Non ne guarderò più Quindi questo tipo di video Non li farò più Però Come ho detto Qualcosa finisce Qualcosa è stato vissuto E E tutto quello Che ci è successo Nella vita Mentre guardavamo Questa serie Mentre guardavamo Tantissime altre serie È probabilmente La cosa più importante E per una volta Mi trovo d'accordo Con gli sceneggiatori Eltrono di spade Probabilmente La memoria È la cosa più importante Grazie per aver seguito Anche queste recensioni E noi ci vediamo Alla prossima Ciao